Verseremo 1,1 miliardi di euro in più di tasse oppure avremo una riduzione di 1,7 miliardi con la nuova legge di stabilità? Le cifre si rincorrono e anche le polemiche. Il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato aveva bacchettato la CGA di Mestre guidata da Giuseppe Bortolussi rea di aver indicato un aumento del peso del fisco grazie appunto alla legge di stabilità, un aumento di 1,1 miliardi di euro. Basta con i numeri a caso, aveva tuonato Zanonato, il peso del fisco con la nuova legge scenderà. La replica dell'associazione di Via Torre Belfredo a Mestre non si è fatta attendere. Il ministro Zanonato chiede lo stop dei numeri a caso, ha ragione ma sbaglia destinatario, replica Bortolussi. Chiede a conto ai tecnici del Ministero dell'Economia visto che il vice ministro Stefano Fassina parlava di una riduzione delle tasse per gli italiani di 1,7 miliardi. Oggi il ministero lo smentisce, parla di un taglio di poco superiore alla metà, precisamente 953 milioni di euro. Non ha usato dunque giri di parole Bortolussi per replicare le affermazioni di Zanonato e aggiunge Se a distanza di quasi 20 giorni dall'approvazione del disegno di legge di stabilità il Ministero dell'Economia è costretto di domenica a venirci a dire che le famiglie l'anno prossimo risparmieranno 953 milioni di euro riducendo di quasi la metà l'importo indicato il giorno prima dal proprio vice ministro allora lo stato confusionale in cui versano è completo. La verità, come abbiamo correttamente denunciato, conclude Bortolussi, è che gli italiani pagheranno l'anno prossimo un miliardo di tasse in più. Buona parte sarà in capo alle banche, ma è evidente che queste le riverseranno sui correntisti, ovvero su famiglie e imprese. Staremo a vedere di numeri, ne arriveranno sicuramente ancora tanti. La polemica resta comunque curiosa, considerato che spesso, proprio sui numeri, il centro studi della CGA di Mestre viene interpellato dal Ministero dell'Economia per non parlare poi del fatto che Giuseppe Bortolussi fu scelto quale antizzaia nella corsa alla presidenza della Regione con la benedizione dell'allora sindaco di Padova, oggi ministro, Flavio Zanonato. Un amore finito? Forse, ma si sa quando ci sono di mezzo i soldi, non si guarda in faccia a nessuno, anche tra amici.